Al Dei Marsi l'Avezzano conquista tre punti pesanti battendo un vasto Girardi fastidioso e mai fuori dalla partita. Decide la doppietta di Roberti, ma procediamo con ordine. Nei Marsicani esordio per Tunkara, Autverna e Ferrani per alcuni problemi fisici. Ferazzoli allora ridisegna il centrocampo composto da Ferrante, Mascella e Marzuillo, coordinati da Onazzi in regia, per dimenticare il K.O. del Riviera delle Palme. Dall'altra parte i molisani non vincono dal 6 dicembre scorso e hanno ottenuto solamente due punti nelle ultime sei partite. Direzione di gara affidata ad Edoardo Panici di Aprilia. Partono meglio gli ospiti che provano a sfruttare l'attesa marsicana. Fontana si ritrova il pallone tre piedi, ma calcia oltre la traversa. L'Avezzano cresce con il passare dei minuti. Al ventesimo trova la chiave con la prima combinazione tra Tunkara e Roberti. Il capitano calcia. Servalli non perfetto tocca ma non evita l'1-0. Passano appena due minuti e l'asse Tunkara-Roberti confeziona anche il raddoppio. Il numero 11 anticipa di testa un avversario e lancia Roberti solo contro Servalli che non può nulla. I molisani protestano per un presunto fallo di Tunkara non ravvisato dal direttore di gara. Il doppio colpo abbatterebbe chiunque. Figuriamoci una squadra con qualche problema di classifica. Il vasto Girardi continua comunque a provarci, ma alla mezz'ora l'occasione è bianco-verde. Anticipato Tunkara, Roberti calcia da distanza siderale, ma la sfera termina oltre l'incrocio. Al trentottesimo torna a farsi pericolosa la squadra di Marmorini. Lancio direttamente verso il centro dell'area. Ramos Lopez sfiora solamente. Cultraro controlla l'uscita sul fondo. Le immagini di Manu e Centurame ci accompagnano alla ripresa, subito piena di colpi di scena, perché dopo una conclusione di Lisi, berra e spinta da Cultraro, il vasto Girardi accorcia al secondo minuto con Ruggeri, che a porta sguarnita appoggia il rete sugli sviluppi di un corner. Timide le proteste per una presunta posizione di fuorigioco. I bianco-verdi continuano a sbandare, anche un giro di lancette più tardi, quando Lisi non trova l'angolo basso. Prova a scuotersi l'Avezzano all'undicesimo. Marzuillo dalla destra cerca e trova Tunkara, che tocca ma non indirizza verso lo specchio. Al quarto d'ora serve un reattivo Cultraro per negare il pare al vasto Girardi sulla conclusione di prima intenzione di Ramos Lopez. Gli ospiti spingono, ma non accade nulla fino al trentaseiesimo, quando ci provano prima Lisi dalla distanza e poi Cesaroni a giro, senza successo. A cinque minuti dal termine Tunkara ha l'occasione per chiudere i giochi, ma solo contro Servalli spreca così. L'assalto finale del vasto Girardi non sortisce l'effetto sperato. Al Dei Marsi l'Avezzano vince 2-1 e ottiene tre punti pesantissimi. Onore delle armi al vasto Girardi.